In viaggio sempre più lontano nell'universo e sempre più in alto tra le stelle, attraversando pianeti e galassie. Dal 7 dicembre nel planetario 3D di Città della Scienza, il più grande e tecnologicamente avanzato d'Italia, arriva infatti il nuovo attesissimo spettacolo in 3D, Hidden Universe, l'universo oscuro, uno spettacolare viaggio immersivo nello spazio più profondo. Per la prima volta sullo schermo in 3D, filmati e ricostruzioni senza precedenti, frutto di immagini reali catturate dai più potenti telescopi del mondo, come quello realizzato presso l'Osservatorio di Capodimonte a Napoli. Da questo fine settimana comincia anche la programmazione natalizia di Città della Scienza, con un ricco calendario di eventi, attività e laboratori scientifici tematici sul Natale, che si concluderà con la grande festa della Befana del 5 gennaio. Tra gli appuntamenti, domenica 8 dicembre, in esclusiva l'evento di Aquascaping, dove i maggiori esponenti del settore a livello mondiale realizzeranno live per i visitatori due splendide vasche che rientreranno nel percorso di visita della mostra e il mare di Città della Scienza. Il weekend del 14 e 15 dicembre sarà poi dedicato al tema Alberi di Scienza. Il 21 e il 22 dicembre si indossano i cappotti più pesanti e si parte alla volta del Polo Nord per scoprire dove si trova la casa di Babbo Natale. Dal 24 dicembre al 5 gennaio, poi due settimane all'insegna della magia del Natale, per imparare di più sui suoi simboli, sulle sue leggende, culture e tradizioni. Sempre a Città della Scienza, nell'ambito del programma Futuro Remoto Extra, dopo il successo della manifestazione che ha visto 15.000 partecipanti, è possibile visitare fino al 12 gennaio la mostra Essere 4.0 Expo. Il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari. Questa meraviglia del planetario in 3D, sicuramente il più bello d'Italia, è uno dei più belli d'Europa, è una di quelle cose per cui vale la pena venire qui a Città della Scienza, insieme a Corporea, le mostre che noi costantemente proponiamo, è un percorso nella scienza, nell'altra, nella cultura, che si rinnova e quindi noi oggi con la programmazione e con le nuove tecniche che mettiamo a disposizione dei nostri visitatori, facciamo un ulteriore passo avanti verso la modernità e l'innovazione. Grazie. Grazie.